Lei mi sta dicendo che l'algoritmo che io ho introdotto ha deciso che sono superfluo. E adesso come faccio? No, avevo detto solo con i funghi. I carciofini non mi piacciono. Avviene subito. La sua pizza? Senza carciofini. Non è che mi piace. Consuntivo è più 9 euro. Mancata consiglia, meno 15 euro. Totale, meno 6 euro. Buono. Questa è la cucina. Mi piace, la prendo. Senterei cosa fa di lavoro. Insegno a contratto filologia romanza. Radica chic di merda. Con il cuore a sinistra e il portafoglio a destra. Soccola. Scusi, magari stava litigando con qualcuno? No, no, è che io faccio later per arrotondare. Ciao Arturo. Io sono Stella, la tua fuber friend ideale. Ciao. È come se intuisse quello che sento, capisci? È il meglio delle persone dentro una persona. Puoi continuare a vederti con Stella? Io posso innamorarmi di un ologramma a 199 euro a settimana. Un attimo! Stella! Noi che tutto questo peggio l'abbiamo visto crescere, che cosa abbiamo fatto noi per arginarlo? E sai cosa ci risponderemo? Cosa? Che noi come stronzi rimanemmo a guardare. Me ne frega! Devi pensare di cominciare. Noi ci dobbiamo credere, perché se non ci crediamo noi, è finita. Da cittadino dico, grazie ministro, forza capitano. Scusa, ma lo facevi later tu? E che adesso faccio anche lover.